Per la piazza della varia umanità che ci occorre ci soccorre Camus, una bella giornata La CGL c'è? Quante volte l'avete già domandato? In questa piazza i lavoratori metallo-meccanici iscritti alla CGL che sono lavoratori che giustamente sono in lotta perché la legge delega sul lavoro riduce i loro diritti perché vogliono rinnovare il contratto di lavoro perché sono il settore che più ha pagato pesantemente la crisi in termini di disoccupazione pare che sia la risposta sufficiente della ragione per cui siamo tutti qui in questa piazza Grazie Per difendere il diritto alla salute e il diritto alla casa Ho sentito dire da un uomo di chiesa che parlava a una nostra seva se tu cammini e incontri qualcuno non chiedergli come si chiama, che cosa fa chiedegli dove va e si stanno ammazzando Grazie Questa è la piazza solo dei metallo-meccanici e può ambire ad essere qualcos'altro Ancora Ancora Oh 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 Ok Yeah Thank you Thank you 3 5 5